Al via i lavori di riqualificazione del viadotto Tevere 4 lungo la E45. Da annunciarlo è stato ANAS che ha completato le procedure di affidamento e sottoscritto oggi l'atto di consegna all'impresa esegutrice. Si tratta della ditta Ricciardello Costruzioni. L'impresa provvederà nei prossimi giorni ad avviare le operazioni di montaggio e allestimento del cantiere. Il viadotto è costituito da 35 campate per una lunghezza complessiva di oltre un chilometro e mezzo tra lo svincolo di Val Savignone e il confine regionale con l'Emilia Romagna nel comune di Pieve Santo Stefano. L'intervento per un investimento complessivo di circa 24 milioni di euro riguarda il rifacimento delle solette degli appoggi, il risanamento delle travi, la sostituzione delle barriere laterali e dei giunti di dilatazione, oltre che al rifacimento della pavimentazione. La durata contrattuale dei lavori è di 1.050 giorni. Resta invece ancora l'attesa per la conclusione dei lavori di sistemazione nel viadotto Puleto, sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio per rischio collasso ed ancora chiuso al traffico pesante. Per la loro ripresa e la conseguente riapertura a tirre e camion, c'è infatti ancora da aspettare la conclusione della superperizia in sede di incidente probatorio dell'esperto incaricato dal GIP.